L'ASL di Taranto ha organizzato un ciclo di seminari formativi sul tema anticorruzione, trasparenza e legalità nella pubblica amministrazione. La dirigenza dell'azienda sanitaria locale Tarantina mette in atto questa iniziativa in considerazione del fatto che la normativa sull'anticorruzione sia fondata su un effettivo cambiamento della cultura organizzativa. Su questi temi ha relazionato nell'aulamagna dell'Università di Taranto e in via Duomo il presidente della sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella. Lei ha fatto parte del pool Mani Pulite, è cambiata la corruzione, è migliorato il sistema in Italia dagli anni 90 ad oggi? Ma ha cambiato dal punto di vista della diffusione? Credo di no, era un problema tutto sommato culturale e diffuso allora, lo è anche adesso. E' cambiato invece qualche profilo operativo della corruzione in quanto è una corruzione più pulviscolare, più nascosta, più alleata spesso alla criminalità organizzata, è una criminalità quella corruttiva in cui spesso non si compra il singolo atto ma si compra la persona, quindi si registrano forme di asservimento di dipendenti pubblici che non vendono l'atto ma si mettono permanentemente a disposizione e soprattutto mi dispiace dire che in tali casi, che spero essere assolutamente minoritari, è cambiato il rapporto mezzo-fine. Prima la corruzione era il mezzo per fare politica, adesso in alcuni casi è la politica che è il mezzo per la corruzione e quindi la corruzione come scopo principale dell'agire politico, non come incidente di percorso.